Oh guarda, 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 sai perché tu non ti alleni mai, sei fatto di cristallo, sei fatto di cristallo, ti tolano, sono pubblicità. La macchina ti chiede, il vetro si è spaccato, la borsa della poli per terra è trovato. La macchina ti chiede, il vetro si è spaccato, la borsa della poli per terra è trovato. La macchina ti chiede, il vetro si è spaccato, la borsa della poli per terra è trovato. La macchina ti chiede, il vetro si è spaccato, la borsa della poli per terra è trovato. La macchina ti chiede, il vetro si è spaccato, la borsa della poli per terra è trovato. La macchina ti chiede, il vetro si è spaccato, la borsa della poli per terra è trovato. La macchina ti chiede, il vetro si è spaccato, la borsa della poli per terra è trovato.